Sul fronte dello sport, in virtù anche di quello che è venuto fuori nell'ultimo Consiglio Comunale, come la pensate? Sì, bisogna raccontare la verità alle società sportive e a tutti gli sportivi fanesi. Con la variazione di bilancio di fine anno, questa giunta, questa maggioranza di centro-sinistra, aveva la possibilità di trovare le risorse per dare una risposta importante allo sport. Parlo sia dei contributi di gestione di tutti gli impianti sportivi, che ha subito un taglio del 25%, sia per quanto riguarda la manutenzione straordinaria di diversi impianti. Parlo ad esempio della palestra di Cucurano, dove ci piove dentro, parlo del circolo tennis, che dalle ultime notizie è lasciato, purtroppo non si sa, al suo destino, ma che comunque ha bisogno di un intervento. Parlo ad esempio di tutte le palestre comunali e della pista atletica Zengarini, che da diversi anni non può più ospitare gare di livello nazionale e internazionali, perché la pista necessita di un intervento straordinario. Bene, a fronte di ciò, di questa richiesta importante dello sport, il centro-sinistra ha deciso di investire 950 mila euro nell'abbellimento del Pincio, sono andato a fondo, non c'è ancora al momento un progetto preventivo sulla riqualificazione del Pincio. L'unico progetto certo è di 300 mila euro per sistemare la siepe davanti alla zona del Pincio, con una bella illuminazione e una sistemazione generale del 2009, quindi vecchia amministrazione a Guzzi. Quindi vogliamo capire come andranno spesi questi ulteriori 650 mila euro quando potevano essere investiti sullo sport. Ultimo e chiudo, 550 mila euro per la sistemazione del palazzo comunale, del tetto, di trasferimento di uffici comunali, che in questo momento potrebbero tranquillamente rimanere dove sono e invece questa giunta spende 35 mila euro inutilmente. Quindi uno sperpero di denaro pubblico e a rimetterci sono gli sportivi fanesi.